Ciao a tutti, oggi vi voglio spiegare il circuito del mio alimentatore, con annesso il circuito di protezione da cortocircuito e sovraccarico più semplice in assoluto. Allora, qui abbiamo l'alimentazione in ingresso, 12V, che come dissi nel video, se non ricordo male, può essere di vario tipo, cioè, mi spiego meglio, non è detto che debba essere per forza 12V, questo circuito può essere utilizzato in molte tensioni. In questo caso io l'ho utilizzato a 12V perché il mio alimentatore è a 12V, in quanto io lo uso soprattutto con il trapano da banco, perché è un trapano da 12V modificato affinché potesse funzionare con l'alimentazione sempre, quindi senza batteria. Possiamo vedere che all'ingresso del positivo abbiamo un fusibile ripristinabile, in questo caso da 5A. Poi abbiamo il pulsante per armare e riarmare il relais, questa è la bobina del relais, al cui parallelo bisognerà collegarci il carico, quindi l'uscita. Poi qui abbiamo il contatto normalmente aperto del relais, che farà da autoritenuta, mentre invece questo è il contatto normalmente chiuso, che servirà per il nostro led di segnalazione. Quindi, se noi alimentiamo il circuito e pigiamo il pulsante, avremo in uscita 12V, che sarebbe questo. Di conseguenza avremo il led verde acceso, che ci segnalerà che in uscita c'è la tensione e quindi tutto procede nel verso giusto. Qualora si dovesse verificare un cortocircuito tra il positivo e il negativo della bobina, l'autoritenuta non riuscirà più a tenere alimentato il relais, quindi disecciterà il relais e di conseguenza non avremo più alimentazione al relais. Quindi non ci sarà più uscita, non ci sarà più alimentazione qui, di conseguenza avremo una protezione, perché questo è il pulsante che dovrebbe alimentare il relais, ma che in effetti non lo alimenta. Per cui non c'è uscita e va in protezione, perché non c'è più l'autoritenuta. Quindi, sfruttando il contatto normalmente chiuso del relais, si accenderà il led rosso, che ci permetterà di capire subito che c'è qualcosa che non va. Riarmando, ovviamente il corto deve essere tolto, riarmando il pulsante si riattiverà di nuovo l'impianto e quindi avremo in uscita la nostra 12V. Ora, io, in base alle caratteristiche dell'alimentatore, cioè dell'amperaggio per cui è stato costruito, ho messo un fusibile ripristinabile da 5A. Quindi, se ci fosse un carico maggiore di 5A su questa uscita, questo interviene, mi stacca l'autoritenuta e quindi il relais e quindi va in protezione. Rosso. Per riarmare, ovviamente, ripremiamo di nuovo il pulsante di marcia. L'ed rosso si spegne, perché è normalmente chiuso, si accende il verde. Possiamo lavorarci. Quindi può essere utilissimo per il cortocircuito e il sovraccarico senza aggiungere componenti elettronici di nessun tipo. Forse soltanto questo, perché questo si può considerare un componente elettronico, ma per il resto è un circuito semplicissimo, direi proprio banale. Io lo uso tantissimo, perché uso il travano da banco. Quando sono a casa, quando lavoro a casa, uso sempre quel travano. Quando faccio i lavori da banco, ferro, legno, senza problemi. E quindi mi va benissimo. Funziona alla grande. Ripeto, io lo uso da anni. Parliamo di anni. Se ci dovessero essere problemi, sicuramente il primo a cedere sarebbe il rele, e me ne accorgerei. Per cui io sono pienamente convinto che questo circuito funzioni perfettamente. Se dovessimo utilizzarlo a una tensione inferiore a 12V, in questo caso bisognerebbe adattare certamente il rele. Quindi, se dovessimo usarlo con 5V, utilizzare un rele da 5V. Oppure qualche altra tensione, ovviamente il rele deve essere abbinato alla tensione. Tutto qua. Molto semplice. Se avete da dirmi qualcosa, io sono a vostra disposizione, accetto ovviamente i commenti e i consigli. Se volete mettermi un mi piace o condividerlo con qualche vostro amico e iscrivervi al canale, per me può solo farmi piacere. Grazie.